L'Academy Catane, in campo per onorare sino in fondo una stagione dai toni positivi sino a due mesi fa, cade all'ultima in casa dell'anno contro l'Invictus che approccia meglio la partita e rimane appigliato alle ultime possibilità di giocarsi play-off negli ultimi 90 minuti di campionato. Chiuderanno invece al sesto posto i nerazzurri di Mister Bianco che per un lungo periodo sono rimasti nel giro che conta. Anche dopo il match di domenica rimane la consapevolezza di averci messo i mezzi per uscire imbattuti, e non è stata la prima volta a fronte di tante occasioni create dopo l'ennesimo inseguimento agli avversari. Invictus infatti in vantaggio dopo 120 secondi con Pennisi e dopo un predominio territoriale che ha rischiato di chiudere con un largo anticipo il confronto, sempre con Pennisi che ha sfiorato il palo al girare e poi gran parata di guerriere su punizione di San Filippo, ha gestito il risultato di fronte a un'Academy che piano piano col passare dei minuti è entrata in partita ma ha faticato molto prima di arrivare in zona goal. Qui Privitera su assist di Tucci ha concluso alto, poi sempre Tucci in verticale ha cercato Privitera e Gabriele Toro in mezza l'area di rigore ma senza risultati. La difesa degli avversari ospiti ha poi tamporato al meglio le velleità di Privitera. Cronometro alla mezz'ora, discorso analogo su Caruso e sul proseguo dell'azione contro Nigro che ha esaltato Gaffuri proprio all'altezza del palo. Non la sola parata del portiere Invictus volato poi su girata da piazzato di Privitera allo scadere del primo tempo. Infine, proprio a ridosso del duplice fischio, ascensore di Gabriele Toro su punizione di Farinato e palla alta. Insomma, senza quella falsa partenza nel complesso probabilmente non ci sarebbe stata questa reazione così caratteriale, ma senza metterla dentro diventa sempre più difficile come dimostra la ripresa che parte da questa manovra allestita da Tucci e Nicolosi che Privitera non finalizza e spreca di fatto così. Idem per Gabriele Toro più tardi, finito però in offside in occasione di un secondo assist di Nicolosi. Notizie dell'Invictus in questa incursione esterna di De Natale neutralizzata da Ghiaria e in questo tap-in di Saitta che l'estremo di casa chiude in maniera provvidenziale evitandolo 0-2. A cui risponde sull'altra sponda Gaffuri, chiamato agli straordinari per intercettare un classico di Privitera lo scavettino profondo. Anche qui niente da fare e a metà tempo ci si mette in mezzo anche la malasorte e la traversa che non cambia gli equilibri. Il tutto mentre i nerazzurri, su indicazioni del tecnico Franco Spina, hanno mandato in campo Alessio Toro e Pulvirenti al posto di Caruso e Gabriele Toro ma dopo questa azione solitaria di Tucci, conclusa debolmente sul portiere, complicano ogni operazione parita a causa dell'espulsione con il rosso diretto incassata da Privitera che a 15 dal termine decreta di fatto la vittoria avversaria. Mirabella al posto di Condorelli, poi Spadaro che rileva Pulvirenti ma successivamente quest'ultimo è costretto a uscire dando spazio a Indorato. Infine Musumeci per Agliolo, gli ultimi avvicendamenti di giornata in casa Academy. Pur in inferiorità numerica, altre occasioni sul conto per tentare di evitare la sconfitta. Nicolosi da fuori tira alto mentre l'ennesimo intervento di Gaffuri è su conclusione decisa di Tucci. Sforzi finali per un pari che non arriva ed è l'Invictus a chiudere in avanti, sfiorando in tre circostanze lo 0-2 prima con San Filippo, traversa sfiorata, poi con Armenio su cui Leotta fa buona guardia infine con Licciardello che mira alto sul conseguente angolo.